Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. In questo nuovo videocorso vi racconto tutto quello che c'è da sapere o quasi sui QR code. Inoltre vediamo insieme come sia possibile crearli con grande facilità senza rischio gratuitamente con una grande efficacia anche per la didattica e la scuola oltre che per la comunicazione. Qualche informazione base che spesso non conosciamo. QR per che cosa sta? Sta per quick response risposta veloce. Cos'è quell'immagine strana? Quell'immagine lì si chiama anche crittogramma. È una immagine cioè all'interno della quale io vado a stipare tante informazioni testuali che poi vengono lette da che cosa? Dalla fotocamera di uno smartphone o tablet. Io inquadro quel codice e visualizzo un video youtube. Inquadro quel codice, leggo un testo, inquadro quel codice e ho un biglietto da visita, una password per collegarmi al wifi. Insomma veramente una opportunità digitale tanto semplice quanto utile. Sapete quando sono nati questi benedetti QR code? Li datiamo 1994. Ebbene sì. L'idea era venuta a una compagnia giapponese il cui nome è Denso Wave e in realtà servivano a che cosa? Venivano utilizzati per tracciare i componenti di ricambio delle auto della casa automobilistica Toyota. Poi l'evoluzione è stata tale per cui i QR code sono arrivati a noi con gli usi che probabilmente conosciamo. Creiamone uno subito gratuitamente senza pericolo con la risorsa che stiamo leggendo. QR code trattino monkey con la y.com. Monkey cioè scimmia, scimmietta, la vedete nel logo. Nulla da installare. Adesso io vi mostro come creiamo un QR code, visto che è l'anno in cui celebriamo Dante Alighieri, che ci porti a visionare un video su Dante Alighieri. Allora, come nei migliori programmi di cucina, quando ti fanno vedere insomma il piatto già pronto, io ho aperto in Google Chrome nel mio browser una schedina nuova. Sono andato su YouTube, ho cercato Dante Alighieri ed esce un bel video che è sul canale di Treccani Scuola, ve lo consiglio. Un bel video insomma che in forma di cartoon ci parla di Dante. E allora in alto se notate c'è l'URL, l'indirizzo univoco. Lo seleziono in blu, clicco con il tasto destro e con il tasto sinistro vado su copia e l'ho da parte. Sono su QR Code Monkey. Molto bene. Pagina generica. In realtà vedete che già sapendo di puntare su YouTube avrei una voce specifica, ma restiamo qui. E allora, dove c'è scritto your URL? Clicchiamo, cancelliamo tutto ciò che sia presente. E poi clicchiamo con il tasto destro e selezioniamo la voce in colla. Attenzione! Questa operazione si può fare anche direttamente da tablet o smartphone. Ok? In quel caso ovviamente l'operazione di copia e in colla la facciamo con pressione prolungata del nostro dito. Bene, andiamo a personalizzare senza eccedere. Allora a questo punto clicco su set colors, eventualmente, e ho la possibilità di decidere il colore del QR Code stesso. Altrimenti sono tutti neri e banali, ma io in realtà posso scegliere addirittura un color gradient, un colore a gradiente, con due colori che si sfumano tra loro. Dante Alighieri, vediamo un pochettino, la vita di Dante Alighieri. Dante, se vi ricordate, un po' nell'immaginario, ha questo abito, insomma, rosso, è raffigurato spesso con il colore rosso. Allora proviamo un pochettino a cliccare sul quadratino blu. Vado a scegliermi una tonalità del rosso. Quei codici strani che state osservando, ne ho parlato anche in altri videocorsi qui sul mio canale, quel codice lì E81, è la notazione del colore. Nel digitale e in grafica non esistono rosso, blu e giallo, per congnuno al suo gusto soggettivo, ma esiste la notazione che identifica proprio quel rosso lì. E allora poniamo che ci piaccia questo, concedetemelo, ok? Quindi da nero a rosso è un gradiente. A questo punto, sotto ancora, io posso aggiungere un logo. Add logo image, anche personalizzato, fantastico, upload image. Io potrei avere una icona o una immagine, non di elevata risoluzione, di Dante. Ma siccome rimanderò a un video YouTube, ho delle icone preconfezionate e andiamo a cliccare il nostro bel YouTube, l'operazione è terminata. Guardate la facilità d'uso. A questo punto io clicco su Create QR, pulsante verde a destra. Attenti, questo indicatore rotondo, questo cursore, può essere spostato da sinistra a destra e fa variare la qualità ultima del QR code. Chiaramente, maggiore qualità, maggiore peso, scegliamo una via di mezzo tra low quality, piccola, modesta qualità, bassa qualità e high quality. A questo punto, di nuovo, pulsante verde, Create QR e guardate, un QR code bello, personalizzato, pronto, pronto all'uso. Ecco, lo scarichiamo gratuitamente in formato immagine, perché di fatto il QR code è una foto. Il formato non sarà molto probabilmente il consueto JPEG, il formato insomma che siamo abituati a leggere quando scattiamo una foto con i nostri dispositivi mobili, ma sarà un formato nella grafica noto che è il PNG, Palermo, Napoli, Genova. Ok? Formato che ci garantisce anche una bella qualità. Allora, intanto, hop, allungo una mano sul retro. Ho preso il mio smartphone. Prima di salvarlo, siccome sono curioso, io vi faccio vedere che sul mio smartphone ho un'applicazione che si chiama Scanner. Attenti, o l'applicazione che si chiami Scanner, o può bastare la fotocamera del telefono o tablet, oppure da Play Store, App Store, ricercate, ce ne sono molti e gratuiti, QR spazio Reader, QR Reader, e sarà quella app a leggere il QR code. Io ora lo inquadro. Guardate, ve lo mostro a beneficio di camera, mi sembra di essere al festival della canzone. Allora, come potete osservare, all'istante, quel testo che vedete sotto, che si è aperto veramente in un baleno, è l'indirizzo www.youtube.com, eccetera, eccetera. E guardate un po', in un istante, lo riconoscete qui in alto, in base a ciò che vi ho mostrato prima? Eccolo qua, canale Treccani Scuola, il video su Dante Alighieri. Semplicissimo, efficacissimo, mille usi per la didattica, posso creare anche una caccia al tesoro, nel senso che, cliccando la voce text, io inquadro un QR code e mi compare una scritta, hai vinto, bravo, hai superato la tappa 1. Fantasia, la nostra, facilità d'uso, quella di QR code trattino monkey. In ultimo, non ci dimentichiamo, va scaricato questo QR code, dunque un clic sul pulsante azzurro download. Attenti, non dobbiamo fare nulla in questa finestra, c'è, vedete, un caricamento in atto, quando il QR code è pronto, done, generating, l'avete visto, in automatico, eccoci qui, nella cartella preconfezionata del mio computer, che potrò sempre variare, in realtà salverò, vedete, una immagine in formato png, o mantengo il nome preconfezionato, che sarà sempre QR trattino code, seguito da 1, 2, 3, 4, 5, man mano che li farò, o noi digitiamo semplicemente QR dante. Un clic su salva e veramente in un baleno abbiamo generato un QR code personalizzato. E allora, cosa aspettate a creare il vostro QR code personalizzato per giocare imparando, ma anche per fare che cosa? Per aumentare, si dice, i nostri contenuti anche scritti, perché con un QR code, in realtà, io vengo condotto quasi ovunque io voglia. Condotto in un testo semplice, condotto, ve lo ricordo, in un sito web, in un video tratto da YouTube e molto altro. Grazie, come sempre, per l'ascolto e ancora un caro saluto dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!